Novità, promozioni, offerte Cosmo Shop, la rubrica per i tuoi acquisti Da oggi Migliore offre alla sua clientela servizi rinnovati ed esclusivi A Sala Consilina, oltre alla qualità dei suoi carburanti Autolavaggio self-service per la cura e la pulizia della tua automobile Per tappetini, tappezzeria e nuovo impianto per garantire freschezza e pulizia la vostra carrozzeria Se invece vorrete approfittare dell'attesa per il lavaggio servito Potrete pensare all'igiene dei vostri amici a quattro zampe Ad Atena Lucana, Migliore completa la sua disponibilità con lavaggio non solo auto ma anche moto Un accogliente bar per il vostro ristoro Officina meccanica e tutti i carburanti per le vostre auto o i vostri mezzi Con benzina, gasolio, gas e metano E da oggi i carburanti migliore vi aspettano anche all'uscita dell'autostrada Padula, buon abitacolo, via, volta cammino Migliore, qualità e servizi per tutte le stagioni